Bussi sul Tirino e il quinto comune in Italia per le entrate per molte sanzioni ammende in proporzione alla popolazione con 1.500 euro pro capita incassate nel 2020 per un importo davvero considerevole di 2.500.502 euro. I numeri provengono da uno studio della fondazione Open Police attraverso un confronto certosino della voce dei bilanci comunali proventi derivanti dell'attività di controllo, repressione delle irregolarità degli illeciti inclusa tra le entrate extratributarie. All'interno di questa voce sono inclusi gli incassi del comune relativi a multe automobilistiche che fanno la parte del leone ma anche ammende sanzioni, somme per il risarcimento danni. L'eccesso di velocità e l'illecito stradale più moltato con 564.352 contravvenzioni seguono quelli legati al mancatoso della cintura di sicurezza 74.996, quelli relativi all'utilizzo dell'auricolare o del vivavoce 39.323, a garantire entrate davvero significative al comune di Bussi, guidato da sindaco di rifondazione comunista Salvatore Lagatta e senza dubbio famigerato ad Oveloxkiller lungo la statale 153 nel tratto che attraversa il centro abitato, oggetto da anni di vementi polemiche per le migliaia di multe recapitate automobilistiche attraversano quella strada che rappresenta una via di comunicazione fondamentale tra l'Aquila e l'entroterra con Pescara e la Costa e che in numerosi ricorsi hanno sostenuto che esso non era ben indicato.